Siamo con il Presidente Città di Triolo. Presidente, cosa ne pensa oggi di questa partita? Cosa ne penso? È stata una bella giornata di calcio, abbiamo visto giocare due squadre che tenevano entrambi al risultato, alla fine ha avuto meglio la squadra ospite che effettivamente ha dimostrato la sua classifica, un classifica che merita questi punti. Per noi è stata una bella giornata, abbiamo trovato degli amici, abbiamo trovato delle persone che sono state vicine ospitali sia lì a casa loro e sia noi penso che di quel foco che abbiamo potuto dare, ma facciamo tanti auguri al Gasperina perché il suo proseguo possa almeno lottare per i play-off e raggiungere l'obiettivo che si era prefissato all'inizio stagione. Allora, siamo qui da Triolo con l'attaccante del Gasperina Claudio Gualtieri. Claudio, come è stata la partita oggi? È stata una partita molto combattuta, difficile, su un campo molto tosto. Alla fine però l'abbiamo spuntata e questo è l'importante. Questa partita fa morale, 1-0 abbiamo vinto ma purtroppo la squadra non ha giocato tanto bene oggi. L'importante è vincere, dopo una sconfitta settimana scorsa contro il Davoli il morale era comunque da rialzare. Quindi penso siano tre punti fondamentali. È importante che Gasperina arriva diciamo allo suo obiettivo, vero? Vero, vero. Siamo partita dopo partita e speriamo di ottenere il massimo del risultato. Da Triolo è tutto, buonasera. Grazie. Grazie.